ragazzi ma che partita abbiamo visto che partita abbiamo visto ma voi vi rendete conto che ci sono state due partite sono veramente sono super accaldato ragazzi super eccitato perché è stato tutto un susseguirsi di emozioni veramente un primo tempo orribile secondo tempo incredibile incredibile conte anche questo ragazzi ha dato veramente una scossa incredibile ai giocatori che sono scesi in campo con un appiglio completamente diverso vittoria ragazzi che ci serviva come il pane e fa ancora più bene perché il derby ragazzi abbiamo vinto un derby che sembrava perso dopo i primi 45 minuti però il milan è anche questo ragazzi il minima il milan è la squadra che riesce a prendere più gol nella ripresa il liverpool insegna mamma mia ragazzi che partita incredibile però veramente non voglio più rivedere l'inter dei primi 45 minuti non la voglio più rivedere sono però contento ragazzi non posso ricriminare niente a questa squadra nonostante il primo tempo abbiamo fatto veramente una prestazione incredibile nel secondo tempo e migliore in campo per me ragazzi al 100% marcello brozovic si prende sulle spalle della squadra con la fascia di capitano e fa proprio lui il primo gol che secondo me è stato quello decisivo che ha fatto poi marciare l'inter verso appunto la rimonta dato quella fiducia che serviva quella fiducia appunto ragazzi non so se avete notato ma il ritmo proprio è salito passo dopo passo minuto dopo minuto proprio l'inter macinava campo molto di più rispetto a quelle del primo tempo è stato veramente una partita incredibile dal punto di vista del gioco cioè di solito eravamo noi quelli che nel primo tempo giocavamo benissimo e poi facevamo cagare nel secondo tempo invece in questo caso è stato tutto il contrario tutto il contrario abbiamo fatto benissimo nella seconda fase invece il primo tempo è stato orribile ragazzi ma vittoria che ci voleva come il pane l'inter è di nuovo prima l'inter è di nuovo vicinissima non so mi pare che adesso aspettate che l'euforia del momento mi dà poi alla testa sì siamo primi siamo primi sta stato un momento di defiance siamo di nuovo primi ragazzi pari punti con la juventus l'inter è tornata l'inter c'è il sogno adesso adesso dobbiamo pensare soltanto alla lazio dopo quella partita potrebbe anche essere più di un sogno ragazzi non dico la parola non dico la non dico la parola ancora la partita è in gioco mentre sto registrando quindi cerco di mantenere la calma siamo al novantunesimo ragazzi quindi spero che non ci siano novità il milano si è mangiato un gol clamoroso mamma mia ragazzi mamma mia che emozioni questo questo derby un derby così ricco di emozioni non lo vedevo dagli anni non lo so veramente incredibile le due facce di questo derby però però lasciatemi dare una nota negativa all'inter a questa inter padelli ragazzi padelli inguardabile due gol ragazzi regalati al milan padelli ma vedete l'importanza di un secondo portiere giovane di belle promesse che quando entra ha voglia di fare bene padelli non può essere il secondo di andanovic cioè proprio una disparità è come un portiere di le capro che sarebbe appunto ovviamente padelli e poi andanovic quindi c'è un dislivello abbastanza pazzesco gli acquisti secondo me che l'inter deve fare sono due fasce due ali forti e un secondo portiere ragazzi l'inter però come organico non possiamo più nasconderci dietro un dito come organico l'inter c'è l'inter c'è abbiamo vesino abbiamo barella abbiamo sensi abbiamo borca valero abbiamo gagliardini abbiamo ericsson abbiamo nengolan che tornerà dal prestito ragazzi l'inter c'è come organico c'è abbiamo lukaku abbiamo lautaro ci sono la difesa ragazzi c'è l'invidia mezza europa non possiamo nasconderci dietro un dito ho cominciato a dire i centrocampisti più scarsi sono partito da vesino poi ho detto borca ma va bene avete capito il senso barella sensi brozzo ericsson sono tutti giocatori di classe giocatori fortissimi quindi non possiamo nasconderci dietro un dito adesso dopo questo derby vinto in maniera roccambolesca che ormai ragazzi io dopo 45 minuti non ci speravo più io completamente ero proprio basta io non non volevo più partire però abbiamo appena segnato di nuovo ragazzi abbiamo appena sognato di nuovo proprio lukaku ragazzi il ragazzo che mancava su assist di moses ragazzi anche lukaku anche lukaku ed è nostro questo derby ragazzi è nostro questo derby mamma mia che emozioni segna lukaku in diretta mentre sto parlando con voi tanta tanta roba al novantatresimo segna anche romelu lukaku e ci portiamo a più due sul minan ormai il derby è nostro che partita che partita e che gol che ha fatto che gol che ha fatto alla sul palo di sinistra mamma mia oddio mio che emozioni che emozioni non ho voluto gridare perché veramente sono 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 contentissimo ragazzi non so come dirvelo sono contentissimo perché era una partita che ormai era proprio dal dal gioco del primo tempo non sono rimasto sono ancora incredulo che l'inter in 45 minuti abbia espresso un calcio completamente diverso non so se è stato conte non so se è stato un po non lo so l'euforia del momento non lo so spero soltanto che l'inter però si continui questo trend perché adesso abbiamo un'altra partita importantissima che è la lazio ragazzi la lazio la lazio la lazio deve essere il nostro la nostra rampa di lancio verso quel sogno che poi sogno non è più così tanto ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta grande inter grande inter ce l'abbiamo fatta segna anche lukaku e ragazzi un abbraccio forza inter sempre comunque amala nella giugno del dolore grande grande gioia oggi ragazzi veramente incontenibili grande inter forza inter forza ragazzi ci vediamo al prossimo amala sempre